Se ci sono delle domande, ci potete fermare per l'alzata di mano, cerchiamo di rispondere. Se il tempo non lo consentisse, chiediamo ai vostri insegnanti magari di accorgere le domande che venissero fuori, noi non possiamo rispondere e secondo me possiamo farvi avere domande risposte. Seconda domanda, al nord aritano più persone che al sud. Seconda domanda, è vero o è falso? Allora, qua è falso, c'è un vero, però la prevalenza è sul falso e di qua è vero. Controlliamo? È vero? Ma come lo faccio? Diciamo che hanno scelto prevalentemente abitare nella parte al nord del paese, lì abbiamo affettato un po' l'Italia con i confini delle regioni, poi si direbbe più avanti, che individuano il nord, il centro e il sud. Grazie. Grazie. Grazie.